allora ragazzi volevamo soltanto augurarvi un buon weekend passatelo bene stasera mi raccomando divertitevi pure perché la serata ideale considerando che siamo a venerdì 13 quindi sicuro sicuro 100 cento non vi può succedere niente a parte insomma che può essere capitata cacchiappa da cocco maniaco non lo so qualche killer qualche mostro se andate per esempio al cinema e niente come vedete mi sono messo anche gli occhiali per sembrare un po più intelligente per dirvi che finalmente domani ricominciamo a girare cominciamo a girare video nuovi per questo 2017 e poi nella descrizione di questo video che state vedendo che se proprio cima pubblicità e min flex abbiamo creato questo piccolo gruppo si chiama behind gli scusateci credo se pronuncia così già sono partite ovviamente le prime battute pure fra di noi perché su questo gruppo che c'è una cosa un po più intima rispetto ai 13 mila finora che siamo qua metteremo delle chicche tipo qualche intervista che ovviamente ci facciamo da soli perché nessuno ci pensa e ci viene intervista qualche foto sexy di adriano e di fabio foto vestite da muratore di federica pirone insomma queste cose così qualche ha magari qualche anticipazione sui video niente insomma una cosa di elitto ma tanto non ci pensate in coppa pagina figurateci pensate dopo gruppo e niente ragazzi a questo punto che dirvi buon divertimento e speriamo che anche i video nuovi di quella del 2017 mi piacciono sì già abbiamo scritto e sono già in produzione i video per napoli real madrid quindi state tranquilli ciao ragazzi buon weekend ciao 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 ciao